d'allegro. Io posso, sai che io sono uno quasi illegale, no? E allora c'è un po' una passione per alcuni suoi film, quelli poi anche di maggior successo come all'ultimo, fino all'ultimo respiro, Pierrol Fou, clan dei marsigliesi, perché mi ricordo che lui ha interpretato clamorosamente bene, spesso, il ruolo del gangster. Quando nei film anche si potevano, si poteva raccontare, si poteva raccontare delle storie in cui non necessariamente il gangster era un essere spreggevole. Col moralismo di oggi io credo che Jean-Paul Bermondot quasi quasi non lo metterebbero più davanti alla macchina da presa. Il Politically Correct di oggi sarebbe improbabile. Grazie a Piero Sansonetti per essere stato con noi al TG4. Ti aspettiamo come sempre nelle prossime edizioni. Grazie per essere stato con noi.